Salve a tutti, sono Chiara Taglioli e ho aperto da poco il profilo Instagram accompagnatrice culturale. Ho acquisito il patentino da accompagnatrice turistica della provincia di Forlicesene a Romagna. Ho deciso di dare vita a quello che vuole essere un riferimento culturale generale, perché la cultura, a mio avviso, non si ferma solamente alle informazioni e alle nozioni che noi possiamo apprendere dai libri o sui libri. La cultura è anche quella che ci viene dalla vita quotidiana, quello a cui noi prestiamo più attenzione, quello che vediamo, quello che sentiamo, e cercando sempre e comunque, ovviamente nel possibile, la bellezza in qualsiasi campo, in qualsiasi modo. Quindi se avete delle iniziative, avete delle proposte, inviatemele pure e le inserisco nel sito che è accompagnatrice culturale. Mano a mano metterò dei post che sono i post riferiti alle fotografie dei paesi, delle città, delle opere, delle mostre, che io visito personalmente, perché a mio avviso l'arte va vissuta. Sulla propria persona, sulla propria pelle, sulle proprie sensazioni, mi distacco spesso dai critici, se non che a mio avviso conoscono tante opere, conoscono tante nozioni che possono ritenere utili. Però credo che ognuno può sviluppare un proprio pensiero, una propria critica. E a volte li trovo anche abbastanza noiosi, perché l'arte poi è emozione, e c'è chi la vuole approfondire, quindi vuole dare anche un significato, vuole ricercare un significato nelle varie opere d'arte, quella discrezione. Credo comunque che ognuno di noi possa godere della bellezza che vi è nella cultura in generale. Quindi qualsiasi proposta è ben accetta, e questo vuole essere solamente l'inizio di un lunghissimo percorso, perché oltre a prendere atto di ciò che è già presente, è nella mia iniziativa quella di creare qualcosa di nuovo. Quindi grazie, e potete iscrivermi direttamente sul mio sito Instagram, accompagnatrice culturale. Grazie.